Eccoci, è necessario chiarire quel che è successo, è successo che una cosa inaccettabile, un decreto del Presidente del Consiglio, quello che stavamo formando a livello di governo per regolamentare e introdurre le nuove misure che entrano in vigore subito, l'abbiamo letto sui giornali, su tutti i giornali, ne va della correttezza dell'operatore del governo, ne va della sicurezza degli italiani, perché questa pubblicazione, tra l'altro di una bozza, quindi non definitiva, assolutamente ha creato incertezza, ha creato insicurezza, ha creato confusione. Questo non lo possiamo accettare. Vorrei spiegare esattamente cosa è successo. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri significa che è un atto normativo che viene adottato secondo un iter ben preciso. Lo propone il Ministro della Salute, dopo aver raccolto sino alle 19 di sera i suggerimenti, l'osservazione del Comitato Tecnico Scientifico, che ha lavorato tutto il giorno per questo. Il Ministro della Salute lo elabora e poi lo fa girare, perché bisogna raccogliere, è obbligatorio farlo, i pareri dei ministri competenti e di tutti i presidenti delle regioni. A quel punto lì ce lo siamo ritrovato pubblicato su tutti i giornali. Siccome l'iter non era ancora completato, non lo aveva ancora firmato, è successo che tutti i cittadini italiani hanno letto questo testo, ripeto, versione non definitiva, fino a quando non lo firmo, non è una versione definitiva e lo possiamo ancora modificare. Ecco perché si genera confusione, incertezza. Ad ogni modo adesso il decreto è stato elaborato nella sua versione definitiva, sono pervenute le osservazioni delle regioni, quindi tra qualche ora verrà pubblicato in gazzetta ufficiale e sarà vigente e quindi tutte le previsioni e prescrizioni in esso contenute entreranno in vigore. Cosa succede di nuovo con questo decreto? Succede che abbiamo creato due aree, una che riguarda del Paese la Regione Lombardia e varie province. Modena, Parma, Piacenza, Reggio, Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano, Cusio, Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. A questo territorio della nostra penisola applichiamo un regime delle misure restrittive più rigorose. Ve ne segnalo alcune. Poi ci sarà un regime invece per la restante parte del territorio italiano. Per le parti della Lombardia e delle altre province del nord che ho menzionato, ci sarà il vincolo di evitare ogni spostamento, vincolo per tutte le persone fisiche, in entrata e in uscita dei territori, anche all'interno dei territori. Ci si muoverà quindi solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, spostamenti per motivi di salute. Fermo restando che è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza per chi ne avesse necessità. Ci sono delle altre misure molto rigorose. D'ora in poi i soggetti con sintomatologia da infezioni respiratorie e febbre, maggiore di 37,5 gradi centigradi, a queste persone è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e di contattare il proprio medico curante, a prescindere che siano positivi o no. Già, ripeto, in queste condizioni è bene che non vadano più, non si muovano più, rimangano a casa e contattino il medico curante. Ci sarà poi un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus. E poi una serie di misure che riguardano tutte le attività commerciali, sociali e imprenditoriali. In particolare, ad esempio, sono sospesi tutti gli eventi, le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sia in luoghi pubblici che privati. Saranno consentiti gli eventi sportivi quelli a cui partecipano atleti professionisti o di categorie assolute che partecipano ai giochi olimpici, manifestazioni nazionali, internazionali, ma o a porte chiuse oppure all'aperto senza presenza di pubblico. Poi ancora sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché eventi in luogo pubblico, privato, quelle manifestazioni a carattere ludico, culturale, sportivo, religioso, fieristico, ma sono anche sospese tutti gli eventi nei cinema, nei teatri, nei pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommessi, sale bingo, discoteche. Noi quindi non possiamo più permetterci in queste aree aggregazioni di persone. Sono sospese ovviamente le attività didattiche nelle scuole, nelle università, salvo quelle a distanza. Sono sospese anche le cerimonie civili, religiose, e vi comprese anche quelle funebri. È consentita solo l'apertura dei luoghi di culto, ma condizionatamente all'adozione di alcune misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone. Sono chiusi i musei, gli altri istituti e luoghi di cultura. Sono consentite le attività di ristorazione del bar, ma dalle 6 alle 18, con obbligo a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. Ci rendiamo conto che è una sospensione molto severa, ma non ci possiamo più permettere che le persone possano contagiarsi in questi luoghi. E poi ancora ci sono delle varie altre limitazioni che poi leggerete meglio nel decreto che da domani diffonderemo. Attenzione, nella sua versione definitiva da me firmata. Poi ci sono delle misure che riguardano invece tutte le restanti regioni e province del territorio nazionale. Sono anche esse delle misure restrittive meno severe rispetto a quelle che ho riassunto. In ogni caso sono sospesi congressi, riunioni, meeting, eventi sociali in cui è coinvolto, questo in modo assoluto, in cui è coinvolto il personale sanitario, convegni di medici, di infermieri, non ce lo possiamo più consentire. Sono sospesi anche manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici, teatrali, svolti in ogni luogo, pubblico e privato. Sono sospesi anche sul restante territorio nazionale, attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati e sospesa l'apertura dei musei, degli altri istituti, luoghi di cultura. Lo svolgimento delle attività di ristorazione dei bar è consentito, ma con obbligo, anche qui, del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. E poi sono sospesi eventi, competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolti in luoghi pubblici e privati. Resta consentito anche per la restante parte del territorio nazionale lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza presenza di pubblico. Si conferma la misura della sospensione delle attività didattiche e questo riguarda sia le scuole sia le università. Sono sospesi anche i viaggi di istruzioni, iniziative di scambio, gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche. E più o meno queste sono le misure che vi ho riassunto quelle più importanti, quelle più rilevanti. Cosa dire nel complesso? Stiamo affrontando un'emergenza, un'emergenza nazionale. l'abbiamo fatto sin dall'inizio con misure di massima cautela e stiamo affrontando con consapevolezza senza sottovalutarle. Noi abbiamo scelto come sapete il criterio della verità, della trasparenza e adesso ci stiamo muovendo con lucidità anche con coraggio, con fermezza e queste misure lo dimostrano con determinazione. Abbiamo due obiettivi fondamentalmente contenere la diffusione del contagio, non ce lo possiamo permettere e nello stesso tempo dobbiamo agire per evitare il sovraccarico delle strutture ospedaliere. Ci stiamo muovendo nell'una e nell'altra direzione. Non possiamo scegliere di dedicarci solo a una modalità di contrastare questo contagio. Servono tutte e due. Per quanto riguarda la prima e il contenimento del contagio avete visto queste misure. Quindi oggi non abbiamo più con questo nuovo decreto le zone rosse che avevamo stabilito all'inizio. Vi ricordate i due focolai iniziali a Vò in provincia di Padova e i dieci comuni dell'Odigiano? Non c'è più motivo di tenere quelle persone in una zona rossa confinate. Quindi a loro va il mio saluto e il mio abbraccio ho già rivolto a loro un messaggio caloroso di saluto ho avuto anche la possibilità di collegarmi con alcune famiglie e con alcuni sindaci in particolare dell'Odigiano. Adesso invece è un'area ci sono misure restittive per un'area molto più allargata e d'altra parte non aveva senso tenere confinate ancora queste piccole zone rosse rispetto a una diffusione del contagio nell'intera Lombardia e in queste province che abbiamo indicato. Nello stesso tempo però stiamo agendo con la massima determinazione per evitare il sovraccarico delle strutture ospedaliere. Alcune strutture ospedaliere sono già in difficoltà e in questi giorni stiamo lavorando intensamente per evitare questo sovraccarico. abbiamo già predisposto il vincolo obbligatorio della solidarietà interregionale c'è un sistema un meccanismo che abbiamo perfezionato che era già presso la protezione civile e quindi c'è la possibilità di redistribuire i pazienti che ne hanno bisogno tra le varie regioni anche non solo ma posso annunciare che oggi dopo tanti giorni di insenso lavoro è stato sottoscritto un contratto che ci consentirà di dar vita a una linea produttiva tutta italiana di apparecchiature per terapia intensiva e subintensiva ci abbiamo lavorato intensamente oggi abbiamo già 320 nuove apparecchiature e abbiamo avviato una produzione potenziando con tutti i mezzi i potenti mezzi del sistema Italia avremo 500 nuove apparecchiature di terapia intensiva e subintensiva al mese ma ci stiamo predisponendo per incrementare queste apparecchiature nello stesso tempo stiamo incrementando anche le linee produttive della filiera Italia dei dispositivi di protezione individuale noi vogliamo garantire la salute dei cittadini ci rendiamo conto che tutte queste misure creeranno disagio ci rendiamo conto che queste misure imporranno dei sacrifici a volte piccoli a volte molto grandi però questo è il momento dell'autoresponsabilità dobbiamo capire che tutti dobbiamo aderire non dobbiamo contrastare queste misure non dobbiamo pensare di essere furbi dobbiamo tutelare la nostra salute la salute dei nostri cari la salute dei nostri genitori soprattutto la salute dei nostri nonni perché abbiamo scoperto che sono soprattutto loro le persone più anziane che sono esposte ai rischi alle insidie di questo virus che è nuovo di cui non abbiamo grandi evidenze scientifiche però cionostante lavoriamo con tutte le cognizioni scientifiche che ci forniscono i nostri esperti i nostri scienziati e da lì noi maturiamo poi la base per assumere le decisioni ci assumiamo tutta la responsabilità politica di queste decisioni state tranquilli ce la faremo saremo insieme marcere uniti compatti e speriamo che presto questa emergenza verrà superata nel frattempo l'abbiamo già annunciato ci predisponiamo anche per le misure economiche adesso in questi giorni stiamo lavorando a questo nuovo decreto abbiamo chiesto lo scostamento di 7 miliardi e mezzo mercoledì si voterà al Parlamento abbiamo un dialogo anche con le forze di opposizione presto le incontrerò hanno chiesto un incontro e sarà fatto anche con loro l'abbiamo già fatto con tutte le associazioni di categoria con tutte le parti sociali questo è il momento nel rispetto dei ruoli nella distinzione dei ruoli noi ci assumiamo noi la responsabilità della gestione della conduzione di questa battaglia ma è chiaro che vogliamo che tutti siano informati siano partecipi di questo impegno e quindi anche le forze di opposizione ho molto apprezzato che hanno preannunciato la volontà di un incontro con me e con gli altri ministri di voler discutere sulle misure economiche sarà fatto e quindi ancora a tutti i cittadini vi invito grazie per l'ascolto e soprattutto vi invito ad essere fiduciosi perché noi ce le faremo sono delle domande ma sono corrente sì Presidente intanto siccome si voterà mercoledì alle Camere lo spostamento di bilancio mi dà una data nella quale ha già convocato le forze di opposizione la sera prima ragionevolmente ci vedremo siccome stiamo lavorando all'accrementi ovviamente perché le misure sono anche molto complesse potete immaginare perché intervenire con misure economiche di fronte a un'emergenza che sta toccando tanti settori di attività tante categorie professionali di cittadini insomma non è facilissimo quindi ragionalmente vorrei incontrarle quando avremo già una bozza più definita di misure potrà essere lunedì potrà essere martedì stiamo domani decideremo io poi ho bisogno visto che lei ha già risposto alle critiche lo posso dire in maniera molto diretta che le regioni hanno sollevato stasera soprattutto sul medito di metodo di pubblicazione di questa bozza di decreto è inaccettabile è assolutamente inaccettabile che una bozza grande chiarezza vorrei chiederle però dei chiarimenti che i cittadini vorrebbero avere proprio sulla tecnicalità di questo dpcn mi sono scritta alcune domande chi farà i controlli fra una regione e l'altra per vedere che le persone che non hanno la possibilità di spostarsi non lo facciano buggerando le forze di sicurezza le rispondo subito le forze di sicurezza le forze di polizia saranno legittimate a fermare i cittadini a chiedere spiegazione del perché dello spostamento e quindi dovranno i cittadini motivare sulla base delle indicazioni che abbiamo detto le giustificazioni sono lo ripeto comprovate esigenze lavorative situazioni di necessità spostamenti per motivi di salute in Lombardia nella zona rossa i cittadini potranno spostarsi da un comune all'altro oppure no? posso permettermi e ho visto già che i giornali hanno iniziato a ragionare di zona rossa è improprio parlare di zona rossa zona rossa noi l'abbiamo istituita come cintura sanitaria rigorosissima per i dieci comuni dell'Odigiano e per il comune di Vo abbiamo presidiato quei territori poi tutti i varchi perché c'è stato è stato introdotto un divieto assoluto di ingresso e di uscita in questo caso se avete seguito il mio riassunto non abbiamo un divieto assoluto di trasferimento da quest'area del nord alla restante parte del territorio però c'è la necessità ovviamente di motivarlo sulla base delle specifiche indicazioni e quindi sicuramente c'è una ridotta mobilità Presidente treni aerei spostamenti da una parte all'altra dell'Italia come funzionerà? Si ferma tutto? Non si ferma tutto però dobbiamo d'ora in poi entrare nell'ottica innanzitutto che ci sono delle regole delle regole da rispettare dovremo tutti essere più responsabili lo dico a tutti lo dico anche ai nostri figli che in questi giorni ad esempio non stanno andando a scuola devono comprendere che questa non è l'occasione per ritrovarsi insieme a fare delle festicciole e quindi per creare occasioni di contatto devono approfittarne per tornare a delle buone letture per esempio leggere dei libri o comunque possono seguire a distanza le attività didattiche a distanza insomma bisogna assumere tutti dei comportamenti responsabili ho questo privilegio stasera di farle un po' più di domande cambierà molto il suo decreto rispetto al confronto con le regioni e dopo la pubblicazione della bozza che abbiamo letto il confronto già c'è stato io vi sto parlando adesso perché abbiamo la versione finale che verrà pubblicata in gazzetta domani quindi io ho raccolto ho lasciato purtroppo c'è stato questo infortunio che veramente dal mio punto di vista è inaccettabile perché chiaramente rischia vi ho detto si è creato un allarme si è creata molta incertezza molta confusione questo non ce lo possiamo permettere soprattutto nell'affrontare questa emergenza occorrono chiare indicazioni ecco perché chi ha pensato di lasciare diffondere questo testo tra l'altro non nella versione definitiva perché voi vedrete che quando verrà poi diffuso nella versione definitiva con la mia firma reca alcune variazioni rispetto al testo che è stato anticipato ebbene non ha fatto del bene ai cittadini perché chiaramente quel testo così diffuso ha creato solo ripeto confusione grazie grazie